Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video location un po' strana, però sono rimasto chiuso fuori da casa e quindi c'è un caldo e allucinante, sto in macchina e almeno c'è un po' di aria condizionata quindi può essere che sentiate un po' di giusto di... eccola qua che parte l'aria condizionata, ma in realtà non dovrebbe partire così tanto allora, in questo video vi voglio parlare di un argomento che sicuramente il titolo ha già dato qualche spunto di riflessione e questo argomento si chiama ho recuperato da un infortunio e dopo, punto di domanda allora, sicuramente questa è una cosa che tutti abbiamo dovuto affrontare chi in modo più serio, chi in modo meno serio logicamente la necessità di fare questo video è stata fuori un pochino dal fatto che molto spesso mi capita di dover allenare delle persone che sono state allenate da qualcun altro e si sono fatte del male ora, a di là del fatto che non è normale farsi male e che secondo me avrebbe più senso cambiare l'allenatore perché non si ottengono certi risultati o perché il protocollo non è per noi stimolante, ma cambiare l'allenatore perché ci si fa male è una cosa che non dovrebbe succedere questo è un pochino il succo del discorso secondo me perché denota la mancanza di qualcosa, la mancanza di qualche capacità di valutazione da parte del trainer questo qua è il mio punto di vista perché se è allenamento bilanciato e guarda tutti i parametri tutto quello che c'è da sapere, perché il primo obiettivo del trainer è allenare senza fare del male ovviamente, significa che c'è una falla nel sistema, una falla nel modo di allenare quindi cosa succede? Che nel momento in cui ci facciamo del male tendenzialmente ci fermiamo ci fermiamo, magari aspettiamo che il dolore passa e dopodiché decidiamo di tornare ad allenarci la domanda che sorge spontanea è, ma quando torno ad allenarmi, che cosa devo fare? devo tornare a fare quello che facevo prima? e allora qua sostanzialmente mi piace trasformare tutto sotto un altro punto di vista ovvero vedetela così, io ho due strade, una che porta ad un burrone, una che mi porta dall'altra parte del burrone cosa succede? Che se io casco giù dal burrone sopravvivo nel percorso per tornare su di nuovo al bivio guarisco e sto benissimo quando arrivo al bivio, se io prendo di nuovo la strada che mi porta nel burrone e casco giù di nuovo vuol dire che quella strada lì non è quella giusta è quella che mi fa fare, mi crea un problema nuovamente l'idea dovrebbe essere cambiare strada lo so, ragazzi, che sarebbe bello dire è stata un'infiammazione leggera è passata e tutto il resto torno ad allenarmi come prima purtroppo la risposta è è un bel paio di palle molto spesso non è così quello che succede è che o si attuano dei cambiamenti dei cambiamenti che sono sufficientemente marcati da distanziarci da tutte quelle caratteristiche dell'allenamento che ci ha portato ad avere un problema o noi ricadiamo esattamente nella recidiva quindi nel momento in cui noi ci siamo fatti male le problematiche possono essere essenzialmente tre o non c'è mobilità articolare quindi i range di movimenti sono forzati o la nostra tecnica fa schifo quindi i movimenti asimmetrici i traiettori non ottimali per esprimere forza oppure il programma di allenamento è sbagliato è ovvio che se c'è la concomitanza di due di queste o addirittura di tre su tre si inizia a fare un disastro quindi un programma che non ha tenuto contro prima di liberare i range di movimento per evitare di forzarli un programma che non ha tenuto conto dell'esecuzione tecnica delle simmetrie e via dicendo un programma che non è stato tarato sul livello della persona porta inevitabilmente ad un problema e quando si torna indietro il programma deve essere completamente cambiato perché se becchi tre cose su tre che tutte vanno sostanzialmente sommandosi a creare un problema è ovvio che vanno modificate tutte e ragazzi lo so anch'io che non è bello dire cambio completamente programma perché quello che ho utilizzato prima mi ha spaccato fuori ma le cose sono esattamente così quindi non sperate di potervi allenare con lo stesso programma che vi ha infortunato punto punto Grazie a tutti.